A casa di Ale racconta i podcast del blog alessandropellizzari.com, puntata di venerdì 16 luglio 2021. Cari lettrici e lettori, ecco alcune riflessioni estive. L'amicizia fra amanti non esiste. Gli uomini che chiedono di restare amici, salvo rari casi, che escludono le rotture unilaterali, di farsi lasciare a suon di lacrime altrui e altri squilibri dove uno ama e l'altro no anche se lo dice, lo fanno perché non vogliono farvi arrabbiare, comunque dell'effetto attrazione fatale, e vogliono tenersi socchiusa a una porta per altri giri di giostra in tempi di magra. Dell'amicizia non gliene frega nulla. Infatti quelli che lo dicono e si rifanno l'amante o sono in 41 bis e spariscono, altro che amici, oppure si ritornano e per quella cosa lì. Amici, amici, ma ti rubano la bici. Esseri umani o cialtroni? Scrive una lettrice. Gli amanti uomini vengono spesso definiti cialtroni nel blog di Alessandro, ma sono esseri umani con le loro vulnerabilità, desideri e angosce come tutti. Vero per alcuni, falso per molti. A casa di Ale viene definito cialtrone chi barra il gioco dell'amore e dichiara l'amante per tenersela alle sue condizioni che lascerà la moglie che creerà una nuova coppia ufficiale, magari con figli. Molti di questi sanno dal primo istante che mai sarà così. Sono dei truffatori in amore. Ed essere sognatori ed entusiasti, se sei in mala fede, non basta come alibi. Anzi un aggravante, come lo stato di alterazione d'alcol o stupefacenti. Anche perché spesso non sono al primo tradimento e alle prime promesse di questo tipo. Loro sanno già la fine del film, anche se la storia è romantica e loro sono bravi attori protagonisti. Persino il debole, cioè l'uomo in conflitto fra ragione e sentimento, diventa responsabile se si lascia andare a promesse che non si sa se manterrà mai e comunque alla fine sceglie. Non ce la faccio, ma sono non a casa di mia madre, ma a casa di mia moglie. Ma lui soffre? Ma lui soffre perché lo rifiuti e sei in codice del silenzio? Questo tipo di uomini non stimano le donne, quindi non sentono il bisogno di difendere la dignità di nessuno, neanche la loro, considerata sprecata, fra virgolette, in questi casi. Voi siete oggetti del desiderio e l'amore è una cavolata che piace alle donne e che loro agevolano con varie farse per raggiungere lo scopo. Adattarsi, improvvisare e raggiungere lo scopo, diceva il mitico Ganni nel non minimo film. Non costa quindi nulla a questi uomini, men che meno in termini di onore e dolore, provarci con voi. Un messaggio è a costo zero come tutto l'orbiting. Persino piangere al bisogno si può fare. Quindi, di che cosa parliamo? Dovreste assistere alle cene fra amici maschi. Quella ho dovuto sorbirmela con il suo romantucismo noioso per tre ore, ma poi a letto ne è valsa la pena. Brutto, ma vero. La scappatella. Io sono un po' rigido sull'amore e innamoramento, quindi anche in una copia di lungo corso, se l'amore è vero, non contemplo neanche la scappatella. Se c'è, può essere un incidente di percorso, soprattutto se gli anni sono tanti. Il destino a Beffardo e sia Cupido sia Eros giocano volentieri con le situazioni più impreviste, complici gli ormoni maschili e femminili. Ma per me è comunque un sintomo di malessere, di bisogno da soddisfare e da approfondire. Sarà davvero stato il caso? Cioè una banale fuoripisto? O il mio cuore mi sta dando dei messaggi di disagio o di bisogno sentimentale e o sessuale sulla coppia originaria? Bisogna chiederlo e chiederselo con sincerità subito. Meglio con un counselor e comunque bisogna fare anche delle domande all'interno della coppia. Non si può tenere come dire solo il segreto. Gli ormoni impazziti. Le relazioni extraconiugali sono solo di sesso. Cito una lettrice che risponde. Purtroppo quello della relazione extraconiugale basata su ormoni impazziti, sesso e trasgressione è un luogo comune sul quale si accade facilmente. E invece tante volte queste relazioni nascono lentamente, con dolcezza, parlando tanto, condividendo in maniera profonda. Poi si arriva al sesso. Solo chi lo ha vissuto può capirlo. Chi condanna a priori pensando che ci si può fermare, che c'è uno spartiacque tra la fase giocosa e spensierata e quella del coinvolgimento sbaglia di grosso. Non è così. Ti ritrovi coinvolta fino al collo e la trasgressione magari non c'entra per niente. Perché bloccare? Ogni volta che ti contatta ti costringe a pensare a lui. Basta un messaggio, uno stato di whatsapp, una foto. Se apri il frigo e non resisti aggredendo la barretta di cioccolato, non comprare il cioccolato. Ecco perché bloccare. E le educazioni, i compleanni, la salute, il come stai, non c'entrano nulla. Aiutate le altre donne. Ale, grazie perché aiuti tante donne che davvero hanno bisogno di un aiuto concreto nell'immediato. Perché sì, la terapia e tutto il resto sono importanti per uscire da queste situazioni. Ma nell'immediato, quando non si sa cosa fare e ci si sente perse, ecco che si trova alla porta della tua casa. A me personalmente hai aiutato tantissimo. Grazie di tutto. Ragazze, quando mi dite queste parole e me le dite spesso, mi date tanta forza. La cosa più bella che potete fare per le vostre amiche e persone che volete aiutare è farmi conoscere, metterle in contatto con il mio blog, regalare la matematica del cuore o, nei casi più complesse, metterle in contatto direttamente con me. La mia mail è sul blog dei contatti. Aiutatemi ad aiutare. L'amante stampella. Chi è l'amante stampella? Colui o colei che integrano uno o più bisogni non colmati dal partner, in modo più o meno lungo. Ma è solo un ingrediente aggiuntivo. Dalla torre, sette uomini su dieci buttano sempre giù l'amante urlandole ti amo. E non solo gli uomini, anche qualche donna. Non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Sul fatto di perdere anni della propria vita per colpa di un celtrone, mi sento di fare una precisazione. Non si butta via il bambino con l'acqua sporca. Il celtrone, a consuntivo, è indubbiamente da buttare e archiviare. Ma ogni celtrone, anche il seriale, esclusi i cattivi narcisisti veri e violenti, ovviamente, ha prodotto, all'inizio di ogni storia, un periodo di felicità, che è poi quello che vi ha fatto innamorare. Ha risvegliato emozioni, vi ha fatto risentire donna e regina, esagerando, certo. Vi ha fatto riprovare l'orgasmo, magari dopo anni di limbo maritale. Ed è stato spesso il grimaldello che ha rotto le catene che vi tenevano ancora imprigionate in una coppia ormai defunta. Quanti di voi, per la prima volta, grazie all'amante, hanno realizzato che il proprio matrimonio era finito? Non importa che poi con lui non abbiate costruito una nuova coppia. L'amante non è quasi mai la prima causa della fine del matrimonio. Molte di voi hanno almeno archiviato ciò che si trascinava senza speranza. E ancora, quanti matrimoni addormentati sono stati risvegliati dal tradimento e hanno ripreso la via della rinascita? Veramente. Non per convenienza. Ci sono anche quelli. Dunque, pur ribadendo che a consuntivo questi uomini bugiardi o deboli o giocatori d'azzardo con i sentimenti altrui che siano hanno fatto a consuntivo più male che bene, sono più aide che Jekyll, hanno comunque avuto una funzione. Hanno regalato anche emozioni e piacere. Questo va riconosciuto. Non è sufficiente per assolverli dalle loro malefatte, ma è il motivo per il quale non siete stupide e vi siete innamorati di un mito, perché all'inizio lui spesso c'era. Prima regola, non si sputa nel piatto dove si è mangiato, che poi risulti di plastica e non di porcellane, un altro discorso. E comunque ora siete vaccinati dai cialtroni. Era A casa di Ale racconta, il podcast del blog di alessandopelizzari.com. Alla prossima puntata!